Il Città di Messina ha definito l'ingaggio dell'under senegalese Modou Ablaie Sec. Il centrocampista classe 1993 vantaggia diversi anni di esperienza in Italia. Nella passata stagione ha militato nel comprensorio Montalto collezionando 21 presenze in Serie D. In precedenza ha vestito le maglie del noto in eccellenze 10 Reale e Città di Marino nel massimo campionato dilettantistico in cui ha collezionato complessivamente 61 apparizioni. Si tratta quindi della quarta operazione in entrata che segue gli ingaggi dell'attaccante Vincenzo Marco Manfraex, l'Icate Sambiase con cui ha realizzato complessivamente sette reti nell'ultimo torneo di Serie D, del difensore Giuseppe Nastasi che vanta ampia esperienza anche in Lega Pro e del centrocampista Mirko Camarda che dopo la parentesi nel due torri ha la quarta stagione in giallorosso. Definite inoltre le conferme del promettente portiere Ivan Mannino, classe 95, degli esperti difensori Giovanni Camaroto e Ignazzo e Alberto Cappello, legati ormai da svariate stagioni del club, del jolly Francesco Munafon, 94 cresciuto nel livello del Garden Sport e in grado di giostrare sia in difesa che a centrocampo, e del centrocampista Giuseppe Cusce, 92, che rientra adesso tra gli over ed è già un veterano per la categoria. Altra operazione di rilievo, l'acquisto a titolo definitivo del promettente Alessandro Bonamonte, già approdato un anno fa in riva allo stretto in pressio dal Catania. Alla prima squadra sono stati aggredati infine alcuni giovani del vivaio, il portiere Giuseppe Camaroto e gli attaccanti d'Angelo e Portovenero, a completare infine il nutrito reparto under e i rientri dei prestiti fra Capane Nicolo e Ricciardo, che si sono fatti le ossa in eccellenza nella nuova Igea.